musica 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 e benvenuti e benvenuti siamo qui su walk the burglars quindi tipo colpisci il tuo ladro una cosa del genere perchè l'altra volta avevo portato walk your teacher e vi è piaciuto quindi ho deciso anche di andare a trovare degli altri e qui nel sera aggiungiamo i 10 like e subito ve ne porto un altro episodio su un altro tipo, abbiamo moltissimi tipi che poi vi porterò in seguito al raggiungimento dei 10 like di subito cosa qua sta succedendo walk it presents ok si sta presentando questi sono ladri non entrare dentro casa ottimo ah non fa me ma ma che sta dentro casa? ah questo è così tranquillo si sveglia find all the ways to kill the burglars raga non lo so non mettete che cosa c'è scritto perchè io l'inglese non lo so ok vabbè io vierei questo che dove vado via? che dove vado via? fire poker ok ah più ok forse oddio non so proprio hp il gatto ah ok dobbiamo fare tipo le combinazioni quindi qua vai va vado via ha proprio finito ha proprio finito buono così così ti parevi benissimo che cambia così ti parevi benissimo che cambia adesso io direi di fare ma questa qui perciò che la punta così poco dai affaciò ma sono la ma vedi come sono ma vedi come sono andando è quasi la fine del mondo bevi bevi pure caccia e nino vedi vedi quello sta fare la torcia umana sta fare lì dietro sta fare la torcia umana un attimo vediamo un pochino il freshener il freshener ah che è questo non si sa vediamo un pochino vieni vieni è infiammabile no non è infiammabile sta tranquillo vieni è infiammabile guarda un po prova c'è nero vabbè non è infiammabile è lui che ha tirato fatto un tiro da più forte è successo che non era assolutamente infiammabile quella sigaretta e ah ok eccoci abbiamo preso lì ha tutta la giugneria eh questo ha parato eh ottimi riflessi ottimi riflessi e il cubo ah 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 non l'ha parato quello eh non so è andata così che difa comunque ragazzi non 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 non